Allora, qua siamo al volo dell'Angelo, sono venuto qua sopra, solo per presentare le prossime serate di 1 di luglio, andate al panorama, questo dove sta dentro, i lucioni, questo è il paio del nuovo, il nuovo serato, il tempo, non è mai in grado, guardate la puntata, e restate a Guadaget, la prima serata con il centro del Staviv e altri pass, Raus Bunker con la live foto di GX, sono serate a Guadaget, qui al volo dell'Angelo è bellissimo, ciao cari, sto arrivando.